Ogni restauro rappresenta un momento di studio e di approfondimento di un'opera d'arte, ma non sempre capita di poter trovare un'opera fino a quel momento sconosciuta. In occasione della mostra Antonio Fontanesi, declinazioni sul tema del paesaggio, tenutasi nel 2010 presso la GAM di Torino, alcuni interventi di restauro da noi eseguiti a fini espositivi sull'opera Studio per novembre, un disegno carboncino su carta, hanno consentito di portare alla luce e scoprire un'opera di Fontanesi fino a quel momento sconosciuta. Il supporto primario in carta su cui era stata realizzata l'opera era incollato perimetralmente su un secondo supporto, anch'esso in carta, di dimensioni maggiori e vincolato a sua volta lungo i margini su un terzo supporto in cartoncino. La tensione meccanica derivata dall'ancoraggio dei primi due supporti sul cartone di fondo mi aveva causato la lacerazione lungo il margine superiore e sul lato destro. Si rese quindi necessario separare i vari strati per impedire che le tensioni meccaniche si ripercuotessero ulteriormente anche sul supporto dell'opera. In un primo momento si è provato a eseguire il distacco del supporto primario dal secondario umidificandolo localmente lungo il perimetro con sottili strisce di Gore-Tex per cercare di ammorbidire l'adesivo. Tuttavia la carta del supporto secondario, molto infragilita, non ha permesso un distacco ottimale per via umida. Si è quindi proceduto a secco, mediante bisturi, delaminando leggermente a recto il cartoncino di supporto. A distacco venuto ci si è resi conto che su quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice cartoncino di supporto era presente un disegno eseguito con gessetti colorati di pregevole fattura, attribuito successivamente anch'esso dagli storici dell'arte a Fontanesi. In seguito i due supporti sono stati restaurati singolarmente, puliti, consolidati e spianati al fine di poter essere adeguatamente conservati entro presidi realizzati con materiale conservativo.